Nome. Charles Tarquiter. Soprannome. James Dean. Numero vittime. 11. Modus operandi. Arma da fuoco, accoltellamento, strangolamento. Charles Tarquiter nacque il 24 novembre 1938 in Nebraska, Stati Uniti. Gli Tarquiter erano una famiglia proletaria rispettabile con bambini ben educati. La famiglia era povera, ma hanno sempre avuto l'essenziale. Il ragazzo è nato con il ginocchio varo, una lieve malattia congenita che gli aveva reso le gambe deformi e soffriva anche di problemi nel linguaggio. Motivi per i quali era spesso oggetto di scherno da parte dei compagni di scuola. Considerato tardo nell'apprendimento, venne sempre accusato di non essersi mai seriamente applicato, sebbene da adolescente soffrisse di una forte miopia che ne condizionò drasticamente la vista. L'unico aspetto in cui Starquiter eccelleva a scuola era la ginnastica. E proprio nella classe di ginnastica trovò il suo sfogo fisico della sua crescente rabbia verso coloro che lo sottomettevano. Usò così la sua nuova fisicità per cominciare a sottomettere a sua volta quelli che se l'erano presa con lui, e presto la sua rabbia andò oltre quei bulletti, fino a raggiungere chiunque non gli andasse a genio. Dall'essere considerato un bravo ragazzo nella comunità, diventò uno dei più problematici. Un suo amico in seguito lo ricordò come un ragazzo gentile, che prendeva tutto come una barzelletta. Era molto divertente. Ma aveva anche un lato nascosto. Poteva essere molto cattivo, crudele. Dopo aver visto il film Gioventù bruciata, Starquiter sviluppò una fissazione per James Dean, da qui ne viene il suo soprannome, e cominciò ad acconciarsi i capelli e da vestirsi come lui. Starquiter si identificò nel ribelle personaggio del film, credendo di aver trovato una sorta di spirito fine, qualcuno che avesse sofferto quanto lui. Allo stesso tempo, sviluppò un forte complesso di inferiorità che lo portò ad odiarsi, ritenendosi incapace di fare qualunque cosa correttamente. È il 1956 quando incontrò quella che diventerà la sua compagna e fidanzata, Carilan Fugate, allora tredicenne. Sempre in quell'anno lasciò l'ultimo anno di superiori ed iniziò a lavorare in un magazzino di giornali. Scelse quel lavoro perché era vicino alla scuola che frequentava la sua ragazza. Starquiter era considerato un lavoratore povero, e il suo datore di lavoro ha in seguito affermato che era lento a capire, che bisognava ripetergli due o tre volte le cose. Lo definì come un tardo. Successivamente si licenziò ed iniziò a lavorare come spazzino. In questo periodo cominciò ad avvicinarsi ad una visione nichilistica della vita, credendo che quella sua attuale situazione sarebbe stato il modo in cui avrebbe vissuto il resto della sua vita. Usava il percorso in cui raccoglieva rifiuti per progettare rapine in banca. Tutti quei complessi mentali, tutta la rabbia repressa, e quel forte senso di inferiorità lo fecero crollare psicologicamente, diventando uno spietato assassino che uccideva chiunque li capitava sotto tiro. 30 novembre 1957. Starquiter si arrabbiò con Robert Colvert, 21enne impiegato della stazione di servizio, per il suo rifiuto di vendergli un peluche a credito per la sua ragazza. Starquiter tornò più volte durante la notte per comprare piccoli oggetti ma alla fine decise di tornare con un fucile. Obbligò Colvert a dargli 100 dollari e poi lo condusse in un posto isolato. I due ebbero una colluttazione ma alla fine Starquiter ebbe la meglio, uccidendolo con una fucilata alla testa. Starquiter sostenne in seguito che, dopo aver ucciso Colvert, riteneva di aver trasceso il precedente se stesso, raggiungendo un nuovo piano di esistenza nel quale era al di sopra e al di fuori della legge. La vera furia omicida partì, però, dal 1958. È il 21 gennaio 1958. Starquiter si recò a casa di Caril Fugate per vederla, che però non era in casa, e dopo che la madre Velda e il patrigno Marion Bartlett, gli dissero di andarsene, Starquiter ebbe un attacco d'ira senza precedenti. Uccise tutti a colpi di fucile, senza risparmiare nemmeno la loro figlioletta, Betty Jean, di due anni, infierendo su di lei strangolandola a morte e pugnalandola ripetutamente. All'arrivo di Caril, forse sotto shock, forse impaurita dal suo ragazzo, o semplicemente molto ingenua, aiutò a nascondere i cadaveri dietro casa. Dopo essersi riposati per la notte, partirono entrambi, guidando verso Bennet, Nebraska, dimora di campagna di un amico di famiglia, il settantenne August Meyer. Starquiter lo uccise a fucilate in testa e, non soddisfatto, uccise anche il suo cane. Fuggendo dalla zona, Starquiter e la Fugate si impantanarono con l'auto nel fango e abbandonarono il veicolo. Quando Robert Hansen e Carole King, due teenager del posto, si fermarono per dare loro un passaggio, Starquiter li costrinse a riportarli al rifugio a Bennet. Arrivati a destinazione, Starquiter sparò alla testa di entrambi, dopodiché mutilò i genitali di King. Con l'auto dei due ragazzi si misero in fuga, raggiungendo un quartiere bene di Lincoln, dove si introdussero nella casa dell'industriale Lauerward e di sua moglie Clara. Clara e la governante Lillian Nofentl furono pugnalate a morte. Dopodiché uccise il loro cane, spezzandogli il collo, e si mise in attesa che rientrasse a casa Lauer. Quando Lauerward tornò a casa quella sera, Starquiter gli sparò per poi fuggire e lasciare lo stato del Nebraska. Gli omicidi nella casa dei Ward generarono parecchia preoccupazione nella contea. Le forze dell'ordine erano impegnate nella ricerca degli assassini, casa per casa. Fu anche contattata la Guardia Nazionale del Nebraska, e il capo della polizia di Lincoln dispose una ricerca isolato per isolato della città. Furono segnalati diversi avvistamenti dei due. Intanto i due ricercati trovarono il commesso viaggiatore Merle Collison che dormiva nella sua auto lungo la strada statale, appena fuori la città di Douglas. Lo svegliarono e Starquiter gli sparò uccidendolo. L'auto del commesso viaggiatore aveva un pedale per il freno d'emergenza, che era una novità per Starquiter. Mentre tentava di andarsene con l'auto, questa si spense. Provò a riaccenderla e un motociclista di passaggio si fermò ad aiutarlo. Starquiter lo intimorì col fucile e ne scatturì una lite. A quel punto, un vice sceriffo arrivò sul luogo. La fugate corse verso di lui urlando aiuto. La ragazzina non riusciva più a stare al gioco del suo ragazzo che aveva ormai perso ogni controllo. Starquiter tentò di fuggire dalla polizia con l'auto. Un proiettile sparato dalle forze dell'ordine frantumò il parabrezza, e un frammento di vetro ferì Starquiter abbastanza da farlo sanguinare. Questi formò all'improvviso, circondato. Scattò l'arresto per la coppia. Starquiter scelse e ottenne di essere estradato nell'Ebraska invece che nel Wyoming, dove giunsero alla fine del gennaio 1958. Credeva che nessuno dei due stati lo avrebbe condannato a morte. L'uomo addossò tutte le colpe alla sua ragazza, dicendo che era spietata e che aveva il grilletto facile come nessun altro. Poi disse che era stato rapito dalla fugate e che lui non aveva a che fare con gli omicidi. Lo sceriffo che lo arrestò lo definì, infatti, un codardo. La fugate riferì il contrario invece. Starquiter venne dichiarato colpevole e condannato alla pena di morte per l'omicidio di Robert Jensen, unico omicidio di cui c'erano schiaccianti prove poiché non si sapeva quali degli altri dieci furono commessi anche dalla ragazza. Fu giustiziato sulla l'assedia elettrica il 25 giugno 1959. La fugate fu condannata all'ergastolo il 21 novembre 1958. È stata rilasciata sulla parola nel giugno 1976, rifacendosi una vita, dimenticandosi del suo passato.